ciao a tutti sono giovanni marziali maestro di kebana l'arte di composizione floreale giapponese vi parlo dal laboratorio che è stato aperto l'anno scorso dove tengo i corsi volevo in questo video far vedere come è strutturato che cosa abbiamo quali sono i materiali per invitarvi anche a partecipare alle prossime lezioni qui possiamo vedere la prima collezione di vasi quelli per fare moribana parte dei vasi sono di luca pedone e altri divani gritti due ceramisti di bergamo che metterò link se volete poi siete interessati all'acquisto dei vasi sono due vali di ceramisti qui abbiamo i vasi pereica e i contenitori quelli olandesi per quando arrivano i fiori e qui c'è tutta una collezione pereica vasi per bungie in cinesi per cui le persone quando vengono a fare il corso devono portare solo le forbici perché per il resto abbiamo tutto compreso qui ci sono tutti i supporti giapponesi per la composizione che si chiamano kenza e adesso entriamo nel laboratorio dove c'è la lavagna per spiegare la composizione e vediamo lo spazio attrezzato per una decina a volte ce ne sei siamo stati anche di più quando abbiamo fatto seminare con il maestro mutti c'erano anche 14 persone e ci siamo stati tutti abbastanza bene c'è la libreria con i testi di kebana antichi ci sono testi i classici di gianni beanti pereira piuttosto che sulle la collezione dei testi giapponesi cestini di bambù comprati in giappone molto interessanti e qui ci sono delle composizioni che abbiamo fatto in questi giorni in moribana tradizionale di colore e questa è una composizione che ho fatto ieri e sarà in un altro video verrà spiegato in un altro video e questa è la postazione per le fotografie per cui una volta fatta la composizione si porta il vaso in questa zona che è perfetta per fare le foto questo un piccolo tokonoma dove anche mettere la composizione vedendola dal dall'alto verso il basso questo è un po tutto e vi invito pertanto se volete venire a fare lezioni trovate tutte le informazioni e le link nella fine scritti del post vi auguro buona serata ciao